Immagina un luogo alla fine del mondo. Immagina un piccolo paradiso dai paesaggi immensi. Immagina di sentire che il mondo intero è tuo. Respirare profondamente. E poi perdere il fiato. Immagina adesso la sua gente. Persone con storie, con il cuore e con le braccia aperte. Il Cilè è come la sua gente. Il Cilè è come i suoi paesaggi. Il Cilè è natura aperta.